Buongiorno a tutti, spero che troverete questo video rilassante ed interessante. Per me è importante condividere con voi una piccola ricerca che ho fatto sulla canzone che ha ispirato questo lavoro. Mi è stato richiesto da Francesco, amico e allievo di Acquarello. Dunque, lui mi ha chiesto di rappresentare la canzone di Mannarino, il cui titolo è Il Merlo Rosso. Siccome non la conoscevo, dopo averla ascoltata un paio di volte, ho cercato informazioni su internet e ho scoperto che è stata molto probabilmente ispirata ad un racconto di Oscar Wilde che si intitola Il lusignolo e la rosa. Sono andata a leggere questo racconto, vi invito a farlo se siete incuriositi da questo video e questo argomento. Lo troverete su Wikipedia. Tornando al dipinto e all'interpretazione del significato, ho dovuto fare questa ricerca per essere sicura di non travisare il testo. La musica spesso e volentieri evoca delle immagini, così come la poesia, per cui è possibile riuscire a creare una sorta di connubio. Trovo che sia una cosa molto affascinante ed interessante. In ogni caso, nella simbologia che ho trovato, l'interpretazione che è stata data da altri a questo dipinto è un po' legata al sacrificio che si può fare in amore, per cui si è disposti a volte per vedere di nuovo il sorriso di un'altra persona a fare un sacrificio. Nella canzone, questo merlo rosso, vedendo piangere la fanciulla, decide di fare qualcosa per lei e vuole donarle una rosa. Per donarle la rosa si china sulla spina e la colora di rosso del proprio sangue. La rosa che stava morendo si riprende e nel momento in cui finisce nelle mani della fanciulla che stava piangendo e non è un semplice pianto, perché è un pianto tormentato, un pianto dove la fanciulla non vede più è come se fosse diventata cieca, sente solo la sofferenza e piange, come fosse impazzita. Ebbene, il merlo rosso, preso a compassione, decide di fare qualcosa e pur di donare la sua vita a questa fanciulla, poiché è soltanto distanguandosi che riesce a far rinascere questa rosa. Ora, nella simbologia, così come è stata interpretata, sembra una canzone molto triste. Io non so quale sia stata la reale interpretazione dell'autore, ma mi chiedo se non sarebbe più corretto vederla come ancora più in chiave simbolica. Se pensiamo a alcune strofe della canzone dove si dice che dal sacrificio del merlo nasce una rosa, che il sangue del merlo nutre la terra, a me viene da pensare alla terra non soltanto come il procedimento che fa crescere le piante e, diciamo così, la fertilizzazione, ma in senso lato al ciclo della vita, anche di una persona, per cui a volte bisogna rinunciare ad una parte di se stessi per riuscire a dare, a far fiorire un'altra parte di noi. A volte dobbiamo lasciare andare un qualcosa che non ci serve più e se ci rimaniamo legati ci fa soffrire. Magari una parte anche canterina di noi che però potrebbe essere, per esempio, più superficiale e per ritrovare la serenità dobbiamo prendere magari delle altre strade, delle altre vie e quindi in realtà io l'ho interpretata come se ogni sacrificio che facciamo noi o che fa qualcun altro per noi o per se stesso, ogni sofferenza, è comunque un qualcosa che permette alla vita di andare avanti e un qualcosa che non è fine a se stessa ma che porta a qualcos'altro di diverso e di ugualmente bello, semplicemente diverso. Fatemi sapere cosa pensate della mia interpretazione. Sono curiosa e avevo piacere di condividere queste mie riflessioni. Spero che qualche amante di Mannarino e magari di Oscar Wilde possa arrivare a vedere questo video e magari scrivere qualche commento. Sarebbe davvero molto interessante. Intanto io mi auguro che possa essere stato comunque un racconto piacevole, uno spunto di riflessione e magari, perché no, anche di un approfondimento da parte vostra nonché un tuffo nell'arte vista in un altro modo per cui a volte è necessario fare delle ricerche anche per avere delle ispirazioni, per riuscire ad andare in profondità anche nel significato. L'arte parla sempre di simbologie perché le immagini stesse sono simboli che vanno a rievocare pensieri e saranno pensieri diversi a seconda delle persone che li guardano. Saranno legate alle nostre esperienze e questo credo che sia veramente una cosa eccezionale perché permette una libera interpretazione in base a quello che è la proprio particolare crescita personale e magari può permettere anche un arricchimento ma in modo spontaneo, non forzato a ciascuno da quello che deve dare e nulla di più. Ciascuno di noi coglie ciò che può cogliere in quel momento e magari in un altro ascoltando una canzone o vedendo un dipinto potrà vedere delle cose diverse. Non è il dipinto o la canzone che cambia ma è l'orecchio e l'occhio dell'ascoltatore. C'è sempre un'interazione tra un'opera d'arte intesa come un qualcosa di creativo, un qualcosa che cerca di arrivare a una comunicazione e il lettore interagisce direttamente con l'elemento che sta leggendo sia che sia di tipo uditivo sia di tipo visivo. È una cosa che trovo molto molto affascinante. Se vi va fatemi sapere cosa ne pensate e se questo video vi è sembrato interessante anche come contenuti fatemelo sapere in modo che magari ne farò qualche altro di questo tipo. Buon proseguimento di visione e buon rilassamento. Grazie. 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 Grazie.